Il ricordo di Delicata Civerra nel giorno della sua morte, l'evento di Crociati e Trinitari con doppio appuntamento all'Istituto Comprensivo Dovidio e all'attore Terzano. Campobasso al via il terzo dei 12 eventi dell'anno organizzati dall'Associazione Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane in occasione dei festeggiamenti dei 70 anni della sua fondazione. L'incontro ha visto la partecipazione dei piccoli alunni dell'Istituto. Abbiamo organizzato questo terzo evento dell'anno, dei 12 previsti durante tutto l'anno per festeggiare il nostro settantennale dalla fondazione del nostro Sodalizio, avvenuto appunto nel 1954. Quest'oggi facciamo un omaggio a Delicata Civerra, quindi a questo personaggio che fa parte dell'immaginario collettivo questa storia leggenda d'amore molto molto importante per la città e cominciamo stamattina con le nuove generazioni, quindi questa collaborazione con l'Istituto Comprensivo Dovidio e quindi con questi bambini che hanno lavorato in questi mesi per questa giornata, preparando anche dei lavori e poi nel pomeriggio con le generazioni un pochino più mature, quindi con gli associati, con i soci dei centri anziani di Campobasso. Attraverso di loro, loro saranno i cittadini del futuro, attraverso di loro la memoria, la storia di un luogo rimane nel tempo ed è importante anche farla ricordare invece alle persone magari più mature, che magari la dimenticano. Quindi proprio quest'oggi abbiamo fatto proprio questa doppia lettura della giornata e della storia di Delicata.